Lunedì sera, benvenuti a tutte amiche e amici di Rossini TV, siamo di nuovo sul canale 80 con la nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute, il talk show che noi realizziamo in collaborazione con Fisioradi Medical Center qui dal salottino di Fisioradi e oggi il nostro ospite è il dottor Matteo Casadei. Buongiorno, buonasera. Buonasera dottore, è il secondo appuntamento con lei, ci siamo già incontrati nel corso della seconda edizione di Check Up Obiettivo Salute. La sua specializzazione è medico-chirurgo specialista in chirurgia maxillofacciale ed è una specializzazione abbastanza, non diciamo singolare, però non è una delle più diffuse sicuramente, però è molto inserita nei tempi che viviamo. Nasce da questa, visto che lei oltretutto è molto giovane, la volontà di dedicarsi alla chirurgia maxillofacciale, oppure da dove nasce questa passione? Allora, la passione per l'estetica è nata abbastanza presto, la mia esperienza personale, insomma, intorno ai 16 anni io pesavo un quintale e questo mi portava poi a relazionarmi con le altre persone in maniera difficoltosa. C'è stato un percorso di miglioramento, caratterizzato da alcune diete, insomma, attività fisica. E dove è scattata questa molla? Cioè perché a un certo punto, in un'età così giovane... Migliorando il mio aspetto fisico è cambiato però tutta la vita fondamentalmente, quindi anche il modo di porsi con gli altri, la sicurezza in se stessi. E quindi riflettendo su questo cambiamento che mi aveva riguardato direttamente, ho pensato di questa mia esperienza riportarla poi anche agli altri, quindi aiutare anche gli altri, migliorandone l'aspetto per poi però migliorarne tutto. Ok? Quindi sia le relazioni con le altre persone, sia il modo di porsi, la sicurezza in se stessi e sentirsi meglio con se stessi. Certo, in poche parole ha dato corpo al concetto che non è vero che non si può cambiare, si può cambiare nel corso della vita, anzi si cambia sempre nel corso della vita. Lei a 16 anni ha avuto questa intuizione su se stesso e poi l'ha portato nel percorso proprio di studi, a voler fare medicina e particolarmente la specializzazione in chirurgia maxilofaciale. In cosa consiste esattamente questa specializzazione? La chirurgia maxilofaciale è una branca della medicina, della chirurgia relativamente giovane che ha un pochino rubato competenze da altre specializzazioni già esistenti che però erano tra di loro separate, come ad esempio l'otorino-laringoiatria, l'odontostomatologia, la chirurgia plastica, no? E mettendo insieme queste competenze hanno poi creato questa nuova figura che è il chirurgo maxilofaciale che fondamentalmente dal collo in su è in grado di gestire tutti i tessuti e tutte le problematiche che possono riguardare un volto dalle ossa, quindi dalle cose più in profonde, alla pelle, a quello che sta più in superficie. Quindi potendo intervenire sul volto di qualunque persona, la chirurgia maxilofaciale si può definire chirurgia estetica oppure è una parte della chirurgia estetica, le due cose coincidono, sono diverse? Sono diverse, diciamo che la chirurgia maxilofaciale non è incentrata sull'estetica, anzi nasce per correggere difetti congeniti, patologie che possono riguardare lo scheletrofaciale o i tessuti del volto e a partire da semplici malformazioni fino ai tumori del testacollo, ok? Quindi diciamo che ha un'anima prettamente funzionale e curativa, ok? L'aspetto estetico poi viene un po' da sé. È una conseguenza, diciamo. Diciamo che la priorità rimane sempre la funzione, ok? Quindi con il nostro viso noi ci esprimiamo, parliamo, mangiamo, quindi respiriamo, quindi ci sono tante le funzioni svolte dal viso e queste vanno tutelate. Poi quando non si parla di patologia allora possiamo parlare anche di estetica, sicuramente il chirurgo maxilofaciale è quello che ha in mano tutte le armi e le competenze per poter gestire anche la chirurgia d'estetica di un volto, la medicina estetica in maniera ottimale, ok? Certo e quindi si può intervenire davvero su tante questioni e oltretutto poi c'è anche la vita di tutti i giorni, la nostra contemporaneità che ci porta a voler intervenire poi anche se magari non ce n'è bisogno da un punto di vista patologico perché passa il tempo. Lo dicevamo prima fuori onda, scherzavo col dottore, non la riguarda perché il dottore ha compiuto 40 anni da pochi giorni, quindi è giovane tuttora, quindi è molto giovane, però effettivamente quando comincia a invecchiare il volto si potrebbe pensare di intervenire in alcuni casi e ne abbiamo diversi esempi guardando tantissime persone note e non note che girano oggigiorno. Allora, in realtà ci siamo già dentro perché l'invecchiamento facciale inizia intorno ai 35-40 anni appunto, ok? È un processo progressivo e in cosa consiste? Insomma, le prime evidenze riguardano la cute, no? La cute col passare del tempo tende ad impoverirsi, perde collagene, perde elastina e non riflette bene la luce, compare quella rugosità un po' superficiale e diventando più lassa tende a cadere. Però non è solo la cute ad invecchiare, tutto il viso invecchia, a partire dalle ossa, i muscoli, le cartilagini. In particolar modo nel viso ci sono delle logge che contengono grasso e questo grasso è un grasso programmato, più si va avanti con l'età più quello tende a ridursi. Può modificarsi con la dieta anche, no? Magari i soggetti un pochino più in carne hanno un viso pieno, florido, disteso, senza rughe, perché appunto il tessuto a disposo da sotto sostiene. Nei soggetti magri in ormopeso questo grasso si riduce progressivamente, la pelle non essendo sostenuta da sotto, poi per gravità, la gravità purtroppo non la contrasta nessuno, tende a cadere, quindi tutti i difetti inizialmente in realtà si concentrano qua in basso perché la gravità ce li porta lì e quindi iniziano a comparire le nasogeniere, la marionetta, il bargiglio sulla mandibola, più in alto abbiamo l'aptosi del sopracciglio, il solco lacrimale, sono tutti difetti che pian piano iniziano a comparire intorno ai 40 anni e poi con l'età vanno sempre peggiorando, ok? Si possono correggere però. I trattamenti, diciamo, possiamo distinguere quei trattamenti che mirano a contrastare, per renderla semplice, insomma, a contrastare l'invecchiamento della pelle, quindi quando parliamo di biorivitalizzazione, le punturine, le vitamine, sono trattamenti che si ripetono nel tempo e loro mirano fondamentalmente a nutrire la cute e contrastare l'invecchiamento della pelle. Quando però c'è uno svuotamento, quando si perdono i volumi, ok? La biorivitalizzazione spesso non è più sufficiente, è necessario andare a ripristinare quei volumi che sono stati persi per dare nuovamente sostegno alla cute, fondamentalmente. Il ripristino dei volumi spaventa spesso molti pazienti che hanno paura di gonfiarsi, di gonfiare. In realtà c'è differenza tra il ripristino di un volume e il gonfiare, no? E quello che si vuole ottenere fondamentalmente è andare a armonizzare il viso, nascondere, correggere alcuni difetti, utilizzando in realtà piccole quantità di prodotto, perché stiamo parlando di piccole quantità di volume. Parliamo di collagene, giusto? Non solo. Parliamo non solo, parliamo di filler in generale. Quindi filler sono quei prodotti innestabili che vanno a riempire, no? To fill. E quindi vanno a fare volume, a dare sostegno. E quindi come dicevo prima, questi filler una volta posizionati in punti strategici, ovviamente ci permettono di ottenere un risultato evidente senza però stravolgere il profilo di una persona, ok? E quindi a volte quegli eccessi che si vedono conseguenti alla medicina estetica... Ma forse soprattutto in età molto avanzata. In età molto avanzata sono dovuti a errate tecniche e a mio parere anche un pochino un'errata concezione della medicina estetica. A mio parere è inutile soffermarsi o intestardirsi troppo sulla singola ruga, ok? Correggere il singolo difetto, perché a volte ci sono difetti che non possono sparire, ok? Si possono migliorare. Quando ci si intestardisce, gli si vuole far sparire, poi si casca negli eccessi, no? In realtà quello, l'obiettivo che si vuole ottenere con la medicina estetica non è quello di modificare il proprio profilo e di ottenere un risultato che sia eccessivamente evidente, soprattutto da parte di chi ci conosce, chi ci guarda. Non ci devono dire, sei stato dal medico, no? Ci dovrebbero dire, come stai bene oggi? Ti trovo bene, esatto. Ti trovo bene. Come sei fresco, no? Quindi l'obiettivo è quello. È una linea sottile, ma ci si può lavorare, insomma. Ma dottore, è vero che la tendenza a voler intervenire anche sull'estetica, quindi sulla chirurgia estetica, è anche delle persone giovani? Certo, certo. Adesso alla medicina estetica ci si approccia sempre in più giovane età. E questo non è sbagliato, a mio parere, anche perché grazie alla ingegnerizzazione dei prodotti innestabili, questi prodotti, diciamo, quando vengono innestati e pian piano vengono riassorbiti dal nostro organismo, stimolano la nostra pelle, stimolano i nostri tessuti a produrre collagene, elastina, insomma, vi è un arricchimento. E quindi, anche quando il filler poi si sarà riassorbito completamente, la nostra pelle non sarà più come prima e non sarà peggio di prima, anzi, sarà un pochino meglio, ok? E quindi grazie a questo la medicina estetica sta assumendo sempre di più una valenza anche di tipo preventivo, vogliamo dire curativo, se l'invecchiamento lo vogliamo considerare come una malattia, ok? La cura, appunto, la medicina estetica. Oggi ci permette questo. Che poi stiamo parlando dell'oggi, dell'attualità, quindi delle tecnologie, di tutto quello che si può fare, ma in realtà la medicina estetica è forse una delle branche più antiche della medicina. Se pensiamo che ai tempi già degli egiziani, tanto per fare un esempio, si interveniva tantissimo. Ci sono degli esempi riportati nella storia. Diciamo la medicina estetica moderna nasce un pochino con l'avvento della tossina botulinica, del botox, che rispetto ai filler in realtà lavora in maniera diversa. Il botox agisce su quelle rughe dovute al movimento dei muscoli, alle espressioni, al movimento dei muscoli facciali. Ci sono alcune espressioni non proprio belle, ok? Ho magari ripetuto tantissimo che portano poi... Sì, il fatto magari di accigliare troppo spesso, rendono un viso più cattivo, più... Certo, non a caso, dottore, mi dica se sbaglio, corrugare molto la fronte porta... Cioè, le persone che si preoccupano continuamente a corrugare, meglio sorridere. Meglio sorridere, sicuramente meglio sorridere. Si inviterebbe probabilmente a qualche trattamento di medicina estetica, quello è sicuro. Però anche da questo punto di vista, man mano che corrughiamo la fronte, la ruga che inizialmente non c'è andrà sempre di più strutturandosi, no? E quindi intervenire con, ad esempio, la tossina botulinica, anche in età abbastanza precoce, evita che quella ruga si strutturi. Certo, che si approfondisca, come si dice. Che si approfondisca sempre di più. E quindi il botox, appunto, come dicevamo prima, è stato uno dei primi trattamenti di medicina estetica. Oggi si fa quasi uguale a come veniva fatto a quel tempo. Quindi è uno dei trattamenti più efficaci, che funziona e funziona anche molto bene. E il suo obiettivo è quello di andare ad eliminare le espressioni brutte, fondamentalmente. Quindi quelle che generano le rughe. In questo modo il viso si rinfresca, fondamentalmente. Ma adesso, prima di proseguire, poi ci arriviamo a concludere, le dico una curiosità. Lei legge fumetti? In passato. In passato. Adesso mi manca il tempo. Esatto, però chi, insomma, ha avuto esperienza. C'è un personaggio dei fumetti che si chiama Dick Tracy, che è un famoso poliziotto americano degli anni 30-40. Uno dei suoi più terribili nemici si chiama La Ruga. È un personaggio con questo viso completamente rugoso e quindi molto minaccioso e quindi fa tanto paura. De Brovmi, mi pare che si dica in inglese. Gliela consiglio di andare a vedere. Adesso me lo andavo a vedere. E poi magari lo fa vedere. No, no, dopo non lo faccio vedere. Si diventa così, no. È un incentivo. È un'esagerazione, è un incentivo. Quindi, se dovessimo definire un trattamento full face, come lo definiremmo? Esatto, allora, il trattamento full face, diciamo che è un protocollo solitamente, quindi una combinazione di più tecniche di medicina estetica e di più prodotti, che ha l'obiettivo di andare ad armonizzare il viso nel suo complesso, quindi nascondendo oppure correggendo alcuni difetti, però sempre tenendo in considerazione il viso nel suo complesso e non il singolo difetto. E quindi quando si fa un trattamento full face, ad esempio nel mio caso, insomma, il mio obiettivo solitamente è appunto quello di andare a contrastare le cause dell'invecchiamento facciale. Quindi da una parte dobbiamo ristrutturare, biorivitalizzare la pelle e dall'altra parte però dovremo anche ripristinare i volumi. Quando parlavamo prima di innesti strategici, un concetto che sfrutta spesso la medicina estetica, è quello del V-shape. Il viso, il viso giovane soprattutto ha un aspetto a V, quindi stretto in basso che si allarga verso l'alto. Per il discorso che facevamo prima, il viso col passare dell'età tende a svuotarsi e per gravità la pelle tende a cadere, quindi questa V a lungo andare diventa una U, perché ci svuotiamo in alto e la pelle scende giù. Il nostro cervello, quando noi vediamo una persona, non è che stiamo lì a guardare le singole rughe, il nostro cervello schematizza. Quindi quando si avvicina verso di noi una V, già nella nostra mente viene richiamata un'idea di freschezza, giovinezza. Quando si avvicina una U, già l'idea che viene richiamata è un'altra. Quindi la medicina estetica sfrutta un po' anche questi meccanismi. Quindi andando a mettere gli innesti nei punti giusti, cercando di ripristinare questa famosa V, anche se il cambiamento non è in realtà così evidente, nell'occhio di chi ci guarda l'effetto ci sarà. Ok? E questo appunto permette di evitare, di ottenere risultato evitando l'eccesso. Certo, proprio il concetto del full face, quindi rientra anche questo proprio nella concezione moderna della medicina. Non si guarda solo un aspetto, ma si guarda l'insieme attraverso tutto. Il suo volto, quello che si ricerca è l'armonia. È l'armonia, esatto. Detto questo, dottore, quindi abbiamo compreso che cos'è il trattamento full face, ma ci possono essere dei rischi legati a questa pratica? Allora, come tutte le pratiche mediche invasive, anche se mini-invasive, ci sono dei rischi, ok? I fastidi a cui si può andare incontro quando si fa la medicina estetica, i più comuni sono il semplice matoma. Ovviamente sappiamo dove sono i grossi vasi, li evitiamo, però i capillari sono ovunque, e quindi quando si entra con un ago il rischio di avere un piccolo ematoma, insomma, c'è sempre. A parte quello ci può essere un po' di edema, un pochino di gonfiore, legato proprio al trauma della procedura. Sono tutti fastidi che si risolvono in pochi giorni. Delle complicazioni, anche se rare, legate ai filler, quelle più, insomma, nelle rare, quelle più comuni, sono rappresentate dalle infezioni ed eventualmente dalle dislocazioni dei filler. Sono anche queste, comunque sono problematiche risolvibili, basta solitamente attendere che il filler con il tempo si riassorba completamente. Diciamo che poi ci sono alcune procedure che hanno dei rischi specifici. Ad esempio, ci potrebbe parlare del rinofiller, no? Il rinofiller, quindi la correzione del naso con gli innesti di filler, presenta dei rischi importanti, nel senso che su milioni di trattamenti, perché attualmente è uno dei trattamenti di medicina estetica più richiesti, su milioni di trattamenti che vengono fatti in tutto il mondo, sono stati descritti due casi di cecità conseguenti all'innesto del filler sul naso. Quindi il paziente lo deve sapere, deve essere consapevole, anche se si tratta di un rischio bassissimo che alcuni direbbero anche non significante. Poi quando si va a contestalizzare l'avvenuto, si scopre che questi casi sono due casi successi in Cina, in condizioni non del tutto chiare. Quindi il consiglio che mi sento di dare io, quando si parla di rischi della chirurgia, della medicina estetica, è quello di affidarsi a dei professionisti competenti. In strutture adeguate. In strutture adeguate che ti garantiscano un livello di igiene, di pulizia anche adeguato, come ad esempio qui al Fisioradi abbiamo un ambulatorio chirurgico che garantisce appunto questo livello di pulizia maggiore e che ti permette di eseguire ad esempio anche piccoli interventi chirurgici come blefaroplastiche, otoplastiche, piccole liposculture, insomma. E l'ultima cosa fondamentale, poi quando si parla di innesti, di prodotti, è necessario utilizzare dei prodotti certificati, dei prodotti validi. Dottore, ci avviamo alla conclusione. Io così, andando a curiosare nella sua vita, nel suo curriculum, ho visto che lei praticamente subito dopo che si è laureata, ha fatto una bellissima esperienza di lavoro che magari in tanti vorremmo fare. è stato il medico dell'Aquafan. Un'estate, giusto? Un'estate. Un'estate. Esatto. In realtà l'esperienza nasce prima perché ho fatto anche il bagnino all'acqua qua. Ah, ecco, quindi... C'è mai andato anche a buttarsi dagli scivoli o no? Certo, anche gli scivoli. Nasce tutto da lì. Una volta laureato però sono tornato come medico una stagione all'Aquafan ed è stata un'esperienza divertente, divertente, dai. Fortunatamente non succedono mai cose gravi. Insomma, non ha mai avuto bisogno di intervenire come chirurgo maxilofasciale lì per lì. No, fortunatamente, fortunatamente no. Forse ho dato una volta un paio di punti su un cuoio capelluto per una botta, insomma, ma a parte quello, dai, non cose gravi, fortunatamente. Quindi un vero parco di divertimenti che lo è davvero per i giovani, per i ragazzi che si divertono tantissimo. Poi magari prendono dei raffreddori tremendi perché vanno che ancora è freddo pure... Esatto, esatto. Poi tutti bagnati, si corre in giro per il parco. Esatto. Dottore, è stato davvero un piacere, un'intervista piacevolissima, la ringraziamo. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento a lunedì prossimo con Check Up Obiettivo Salute qui da Fisioradi Medical Center. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.